Salve a tutti i miei cari amici di Popcorn, come state? Buon settembre, mi sono mancata? Spero di sì! Come sono andate le vacanze? Spero benissimo! Oggi vi porto un'altra notizia croccantosa per cominciare questo mese al massimo! Infatti Netflix ci ha annunciato oggi con un mini video che la serie dedicata alla vita di Pablo Escobar avrà non solo una terza stagione, bensì anche una quarta! La seconda stagione è approdata da poco sulla piattaforma, con 10 nuovi episodi ed è una delle serie di maggior successo targate Netflix. Il video in sé non svela molti dettagli su questa terza stagione, ma capiamo che l'obiettivo si sposta su Gilberto Rodriguez Orequela, un trafficante colombiano e fondatore del cartello di Cari, nel sud della Colombia. Per rimanere aggiornati e scoprirne di più su questa nuova stagione di Narcos e non solo, mi raccomando visitate www.screeweek.it oppure scaricate la nostra applicazione. Noi ci vediamo come sempre qui sul canale con tante notizie croccanti!